Accattivanti, veloci, esclusive, lussuose, non convenzionali. Sono tante e sono qui per voi, autocariche di stile e di fascino. Benvenuti a tutti a Supercar Show, spettacolo puro. Supercar Show si svolge presso il quartiere feristico di Roma, i cui padiglioni ospitano modelli incredibili di Supercar, raramente visibili. E il pubblico ha tutte le occasioni per vederle, toccarle e in alcuni casi trovarle. Un salone dedicato anche alle sportive e alle competizioni, una seconda edizione ricca di intrattenimenti e attività, un'opportunità espositiva unica per tutto il centro sud Italia e per tutto il settore automotive e addetti. Quello che ci si aspetta è una lettura sportiva, non solo che vada forte, ma che sia divertente da guidare e sicura. Molte le aree da visitare, tra cui uno spazio completamente dedicato alle top di gamma e ad auto artigianali spesso costruite con i materiali più pregiati, caratterizzate dall'esclusività del design e delle prestazioni. Altre protagoniste, le vetture che gareggiano sulle piste di tutto il mondo, Formula 1, vetture GT, rally e cattivissimi prototipi. Allora Giancarlo, come sei l'è cavata Vincenzo? Un po' di fatica, se l'aveva sicuramente meglio col pallone. Ecotec Mobility è la sezione del salone dedicato alla mobilità sostenibile e alle nuove tecnologie. In scena quindi anche le auto del futuro, finalmente un connubio perfetto tra rispetto dell'ambiente design e alte prestazioni. Dalla più alta tecnologia del futuro al fascino delle auto d'epoca, con pezzi storici messi in esposizione da club e collezionisti. Per mantenere al meglio esemplari e unici, i proprietari sanno bene che è necessaria una nutrita Beauty Farm. Ed eccolo qua, lo spazio dedicato alla cura e alla bellezza della propria auto. Ho visto il go-kart, ho visto le macchine, il city car, ho visto che c'è parecchia roba anche per i più giovani. Però devo dire, io ero venuto qua con 300 euro, ho detto ma bastano 300 euro per comprare questa? Mi sa che siamo lontani. Un po' lontani, sono altre cifre. Un po' lontani.